Grande spettacolo per il Gran Premio Learco Guerra di Badia Agnano, già classica del nostro territorio. Gara in crescita e altamente spettacolare per l'edizione 2018, curata sotto ogni dettaglio, scenografia compresa. Percorso interessante, banco che salta presto sulla salita che da Pergine porta a Civitella. Qui la Opla Petroli, la Zalf e la General Store Bottoli hanno in presso un cambio di ritmo fatale per molti altri. Tra gli fuggiaschi, resi sempre meno dai saliscendi, ci ha pensato poi la speranza del ciclismo internazionale. Birel Rasmus Siversen, che a 50 km dall'arrivo ha lasciato tutti sul posto. Di lì la corsa si è trasformata in un assolo del danese che in fuga ha raggiunto tutti i punti strategici del Gran Premio da solo e poi ha vinto nella frazione V cinese per il proprio quinto successo personale in stagione. Alle sue spalle il gruppo si è invece ricompattato ed è stato regolato da Jalel Duranti della Opla Petroli Firenze mentre Simone Piccolo, portacolori della Named Sport, si è preso il gradino più basso del podio. Alla gara di Badia Agnano, 148 corridori presenti dei 193 iscritti con soli 55 arrivati.